Le asfaltature della Statale 16 con il nuovo manto stradale, lo Slurry Seal, è ormai da alcuni giorni al vaglio degli utenti della strada che ne percorrono il tratto interessato, da Ponte Metauro fino alla Rotonda di Centinarola. Diversi cittadini ci hanno segnalato che in alcuni punti già asfaltati, in particolare nella zona antistante alla stazione ferroviaria e in Viale Gramsci, il manto stradale non è proprio del tutto liscio, anzi avvalamenti e piccoli dossi, soprattutto a chi li percorre in scooter o in bicicletta, portano qualche disagio, soprattutto sulla sicurezza. Come mai un manto stradale nuovo di Zecca dà queste sensazioni a chi lo percorre? È questa la sensazione che si deve avere? O c'è qualcosa ancora che deve essere fatto? Lo abbiamo chiesto ai tecnici del Comune e al professor Andrea Grilli dell'Università di San Marino che sta seguendo tutto il progetto. Come mai? Perché ha questa caratteristica? Sì, questo è possibile soprattutto nelle prime settimane dopo l'intervento. La scelta è stata quella di non utilizzare il classico tappetino di usura ma utilizzare una nuova tecnica che si chiama Slerry Seal. Questo materiale è una malta sigillante con spessore non sopra il mezzo centimetro e per questo nei primi tempi può risultare che si avvertano delle irregolarità dovute allo strato esistente. Qui potete vedere un esempio di quello che era una vecchia pavimentazione nella viabilità di Fano. Qui si distinguono anche gli strati delle vecchie manutenzioni, usura su usura su usura. In questi casi l'intervento è stato quello di utilizzare una pezzatura più grossa, matrice basaltica. Qua lo vediamo per il primo strato che è l'usura ma anche lo strato di rinforzo chiamato binder, con pezzatura molto grande. Utilizzando delle ricette apposite e dei mezzi idoni si è raggiunto un materiale molto più resistente. Questo lo possiamo dedurre sin da subito in quanto non è percentibile la porosità, mentre in questi casi la porosità è molto evidente. E quindi questo genera una carenza di resistenza, questo genera l'innesco delle buche perché l'acqua si insinua, penetra all'interno di questa pavimentazione e genera lo spogliamento e quindi via via lo sgranamento del materiale. Comunque questa sensazione di rugosità di sopravvi si andrà attenuando nel tempo. Sostanzialmente sì, sostanzialmente con la macchina io direi che non sarà più avvertibile. Con le bici e con il motorino ci sarà la pista ciclabile, quindi qui avremo un tappeto tradizionale solo che sarà colorato rosso. Ma comunque sì, anche qui sarà garantita la sicurezza perché utilizziamo degli aggregati con resistenze superiori a quelle alle quali eravamo abituati a calcare e molto lisci.